Fare ambiente è ormai diventato un grande movimento ambientalista nazionale che vuole coniugare lo sviluppo con la sostenibilità. Noi, devo dire, siamo diversi dall'ambientalismo tradizionale, perché a me l'ambientalismo tradizionale ha sempre solo detto no. L'ambientalismo tradizionale ha sempre detto, ha creato ostacoli, ha avuto solo la mera conservazione. Noi invece, oltre alla conservazione, vogliamo la valorizzazione e la promozione. Noi dobbiamo dire sì, sì, no, no, utilizzando il metodo scientifico. Avere lo sviluppo a rischio zero non esiste. L'ambiente è la qualità della vita e lo sviluppo è un elemento della qualità della vita. Lei per venire qua ha utilizzato l'automobile. Tutto sta nella razionalità dell'utilizzo della tecnologia che non va demonizzata. È un pensiero nuovo questo per l'Italia. Cosa si può fare in questo territorio? Siamo in un'area protetta. Come coniugare queste due esigenze? La tutela con la valorizzazione e la promozione. Fare una mera tutela, dove bisogna dire che l'uomo non deve entrare in questo posto, per me non ha senso, perché questo genererà ulteriormente il degrado. Ma nella nostra visione la tutela deve essere coniugata con lo sviluppo, cioè con far sì che i giovani non scappino, non vadano via. Questo è il problema centrale. La green economy in fondo è questa. L'ambiente è un grande valore. Ma se noi pensiamo che solo la mera tutela dell'ambiente, cioè la conservazione, e l'uomo è meglio che se ne va, noi siamo totalmente in disaccordo. Perché per noi l'ambiente è un valore per la centralità dell'uomo, non per altre cose. E questo è eretico rispetto all'ambientalismo tradizionale. Io lo dicevo l'altro giorno, ecco la polemica sul Corriere della Sera di questi giorni, ho la polemica di Cazzullo, quando Cazzullo ha detto ma nelle liste hanno messo fuori gli ambientalisti. E io ho risposto sì, ma hanno messo fuori quel tipo di ambientalismo. Quell'ambientalismo è fastidioso, quell'ambientalismo che non ha saputo poi creare lo sviluppo. Cazzullo ha saputo dire non facciamo questo, non facciamo quest'altro. Noi invece si teniamo che l'ambiente deve essere un valore centrale di tutto e trasversale, ma va coniugato con lo sviluppo. L'appello che io ho fatto è che nelle liste adesso della politica, che dovrà parlare il futuro Parlamento della crescita, lo sviluppo, ma di che tipo di sviluppo? Di lo sviluppo che è razionale, non la negazione dello sviluppo, ma lo sviluppo che deve essere un elemento fondamentale coniugato con il rispetto della natura, ma soprattutto con l'uso razionale della risorsa natura. Nel resto l'ambientalismo ragionevole, non me lo sono inventato in Italia. Ma al caso il PDL l'ha voluto nel suo organigramma, questa mattina nell'ufficializzazione del nuovo organigramma è comparso anche... Guardi, io ho detto e farò l'appello adesso, l'ho fatto a livello nazionale, che nelle liste di centro, di destra e di sinistra ci sia molto ambientalismo, che non deve essere l'ambientalismo quello dell'ambientalismo tradizionale, che è stato messo fuori, il PD è stato messo letteralmente fuori, ha un senso questo, c'è una motivazione. Noi invece riteniamo che l'ambiente deve essere un valore centrale in tutte le compagni di destra, di centro e di sinistra, perché l'ambiente non ha colore politico.